Trasmettiamo i programmi dell'accesso regionale a cura del Corico Monpiemonte. Buongiorno, spazio dedicato a un tema molto sentito, il contrasto alle discriminazioni. Con noi Monica Cerutti, che presiede e guida l'assessorato regionale alle pari opportunità, Alessandro De Cillis, presidente del Coricom. La regione da tempo sta lavorando all'attuazione approvata nel 2016 contro le discriminazioni. Quali sono i principi di questa legge? Questa legge, che è la legge regionale 4 del 2016, è una legge contro tutte le discriminazioni. Quindi le discriminazioni legate al sesso, all'orientamento sessuale, all'identità di genere, alla disabilità, all'età e anche alla provenienza da altri paesi. Noi stiamo costruendo una rete in tutta la regione di nodi, nodi uno per provincia, nodi antidiscriminazioni collegati a degli sportelli, che sono associazioni o centri per l'impiego, sportelli per le case popolari, che governino appunto quello che può essere la lotta contro le discriminazioni. Quali sono gli aspetti concreti? C'è rispondenza sul territorio a questo vostro impegno? Sì, c'è rispondenza perché purtroppo le discriminazioni sono tante. Possono essere quelle di una persona disabile, a cui viene negato l'affitto di una casa. Possono essere quelle di una persona omosessuale, che non viene assunta. O purtroppo anche atteggiamenti razzisti nei confronti di una persona straniera. Questi nodi stanno lavorando proprio per portare avanti azioni di sensibilizzazione e anche per raccogliere eventuali denunce. Ecco, non sempre chi è vittima di una discriminazione ha il coraggio di presentare una denuncia. Che cosa fate per aiutare queste persone? Con la legge abbiamo istituito un fondo, un fondo che prova proprio ad accompagnare, quindi a pagare quelle che sono le spese legali e collegato a questo fondo vi è un elenco di avvocati che hanno seguito un corso antidiscriminatorio. Quindi diamo la possibilità di essere accompagnati nella denuncia e accompagnati quindi sia con un sostegno economico sia con un sostegno competente. Lei avrà avuto a che fare con molti casi, con molte storie. Vuole accennarne brevemente a qualcuna? Sì, storie che purtroppo riguardano anche enti pubblici, enti pubblici che introducono anche delle regole, delle regole discriminatorie. E quindi in questo senso noi interveniamo e in alcuni casi è capitato per esempio invece per una signora disabile a cui non era stato affittato un alloggio. In realtà prima di arrivare al contenzioso legale, sia l'ente pubblico, sia magari in questo caso quella che era l'agenzia immobiliare, recede e supera la discriminazione. Presidente De Cillis, su questo tema molto importante è l'informazione. Il Corecom che cosa può fare? Beh, il Corecom appoggia chiaramente le attività della regione e le sostiene. La discriminazione è un tema molto importante e noi con il controllo, con la supervisione sul sistema radio televisivo locale sicuramente possiamo fare molto. In più stiamo lavorando sempre nell'ottica dei nuovi media, quindi anche le attività sul cyberbullismo rientrano sulle possibilità di monitoraggio delle attività discriminatorie, sia sul sistema dei media tradizionali, sia in quello dei nuovi media. Ecco, i nuovi media sono un terreno scivoloso talvolta. C'è rispondenza all'indirizzo che voi avete intrapreso? Beh, è una strada nuova che abbiamo intrapreso, quindi siamo un po' agli albori di questa attività di sorveglianza. Sicuramente il Corecom del Piemonte sta sviluppando delle attività innovative grazie alle leggi, sia la legge nazionale sia la legge regionale, che ci consente di essere operativi. Teniamo presente che in ambito delle discriminazioni al Corecom ci si può rivolgere sia direttamente ma anche attraverso le URP che sono chiaramente sul territorio in ciascuna provincia. Diteci brevemente, c'è un collegamento con le altre regioni? Beh, le attività a livello nazionale vengono sviluppate e quindi certamente faremo in modo che il buon esempio, le buone pratiche regionali diventino nazionali. Bene, questo quanto riguarda il tema delle discriminazioni, il tema sempre più attuale, vi ringraziamo per averci seguito, grazie a risentirci. Sono Marco Borgogno, la mia attività è stata quella dell'imprenditore ed ho ricoperto anche alcuni incarichi pubblici, ma negli anni 80 mi ritrovai con un'epatite, allora non ancora qualificata, che poi fu definita ipatite C successivamente. Questo malanno mi portò poi nel 2001 a subire un trapianto di fegato nelle Molinette da parte del professor Salizzoni e quindi tra poco farò i 18 anni di nuova vita che rappresentano comunque un buon traguardo ed è sicuramente un buon viatico per coloro che sono in attesa di un trapianto. Da un anno, da cinque anni per la verità, sono diventato presidente nazionale dell'ITF, l'associazione italiana trapiantati di fegato, che partì da Torino nel 1988, 30 anni fa, un presidente Carlo Maffeo che è stato presidente per lunghissimi anni e come primo firmatario lo stesso professor Salizzoni che nel 1990 poi si portò a Torino per aprire il nuovo centro trapianti di Torino che è diventato in questi anni di caratura mondiale. L'ITF da allora è cresciuta, oggi ha 15 delegazioni sparse in tutta Italia, rappresentiamo la delegazione più importante del settore, abbiamo molti soci, ma non ci fermiamo certamente a tutelare soltanto i soci, ma tutti coloro che hanno subito un trapianto di fegato. Abbiamo anche una sezione, la Leyla ITF Bimbi, che è una sezione per i pediatrici che si occupa presso Regina Margherita solamente dei bambini. Le finalità sono quelle di occuparci essenzialmente dei trapiantanti, cioè coloro che sono in attesa di trapianto, con i quali abbiamo un colloquio continuo anche per dimostrare deviso quella che è stata la nostra scelta. Dei trapiantati poi successivamente, che occupiamo parecchio di ricerca, per quanto possiamo ancora finanziarla, e di assistenza a quei casi più difficili o comunque bisognosi di avere particolari cure. A tal proposito, in Torino abbiamo una residenza in via Cimabue che si occupa di ospitare tutti coloro che sono in attesa di un trapianto che, come ben potete capire, non è una data certa quella dell'operazione. Ci sono diverse variabili che possono portare anche ad alcuni mesi, in taloni momenti, anche ad alcuni anni di vista d'attesa. La nostra è un'attività di volontariato, siamo tutti dei volontari, e tra l'altro dobbiamo anche dire che presso l'ospedale ne abbiamo una quarantina di coloro che si occupano effettivamente degli ammalati, e noi tutti, di tutta Italia, rappresentiamo una ONUS che non ha nessun dipendente. Questo ci porta a lavorare con una passione speciale, quindi essendo tutti trapiantati, o magari qualcuno che ha aderito come i medici e che è successo a Torino, riusciamo ad arrivare a tutti dando loro un certo aiuto. È bene ricordare che oggi si può fare la dichiarazione di voler donare gli organi presso i comuni, è una legge abbastanza recente che prevede che nel momento del rilascio o del rinnovo della carta d'identità si possa fare questa dichiarazione. Ad oggi in Piemonte sono 753 i comuni su 1.206 che hanno aderito a questa iniziativa, con una percentuale molto più alta di cittadini perché tutti i capoluoghi hanno aderito a questa volontà. La donazione in Italia ha raggiunto da parte dei comuni 2 milioni e 700 mila persone che sono molto di più di quanto in precedenza si poteva fare con l'Aido, con altre associazioni e con sorelle. Effettivamente riusciamo con questo sistema ad avere un plafond migliore di disponibilità, ognuno potrà dire la sua al momento del rilascio della carta d'identità, potrà dire sì o no, sapendo che potrà cambiare eventualmente nel corso della sua vita qualsiasi decisione, quindi non è una volontà espressa in termini definitivi. È molto importante che questo si sappia perché la scelta in comune ha dato nuovo vigore alla donazione e sicuramente ha incentivato molto il settore dei trapianti. Il Centro Studi, Cultura e Società è un'associazione senza fine di lucro, sorta nel 1982, opera in ambito culturale e sociale, le sue attività sono molteplici, per cercare di presentarle abbiamo idealmente pensato a 5 aree tematiche, 5 piccoli villaggi ideali. Il primo villaggio è la capitale del nostro mondo ideale, quello della solidarietà e dei diritti. L'associazione è impegnata sia con interventi concreti che nella divulgazione di questi valori. Anzitutto il premio per la pace e la giustizia sociale ha la sua 27esima edizione. Interventi concreti come i raggi di sole e un mare di idee, un progetto di volontariato culturale a cadenza settimanale presso la residenza per anziani la Trinitè e lo spettacolo per la Lega del Filo d'Oro, realizzato a ottobre con gli Argonauti. In primavera prende avvio Le Diverse Ità, una rassegna dedicata alla creatività realizzata da artisti disabili, musica, pittura, lavori di artigianato, teatro, poesia. Nel secondo villaggio, quello dei fatti espressi delle emozioni, si sviluppano temi che si richiamano alla società e alla vita della comunità. Gli incontri di Agora, uno spazio aperto di confronto e libero scambio di idee sui temi di valenza culturale e sociale. Donne in cammino, un percorso sulle tematiche che hanno al centro la donna. Da evidenziare la mostra Immagini di Donna, il recitali Il Cuore delle Donne, sulle donne Simbolo e il premio Kulishov Poesie sulla Donna. Numerose le iniziative nel periodo natalizio ispirate ai valori del Natale. Nel terzo villaggio, quello della valorizzazione delle buone pratiche e dell'apprendimento, si valorizzano progetti e realizzano seminari, laboratori e brevi corsi di formazione. Tra le attività formative è un laboratorio di europrogettazione e seminari di condivisione e approfondimento. Valorizzano le buone pratiche premiate dopo ogni edizione del premio Persone Comunità. Il premio Persone Comunità è un premio che valorizza i migliori progetti della pubblica amministrazione e delle organizzazioni di volontariato rivolti al benessere della persona in ambito formativo, culturale e di servizi sociosanitari. Il quarto villaggio è la creatività, ovvero l'ideazione artistica tradotta in opere letterarie, pittoriche, grafiche e fotografiche. Ecco noi alcune espressioni. Il premio Letteratura d'Amore, il sole e la luna, rassegna per la valorizzazione di autori emergenti in ambito poetico. I caffè letterari condotti da facilitatori che coinvolgono i presenti sul tema della serata. E poi le serate nei caffè storici, le gare poetiche, con performance dei concorrenti, i giochi poetici, il Borgo San Paolo Poetry Slam e la disfida poetica. Ricco il programma di mostre personali collettive di fotografie e di pittura e gli spettacoli. Tra questi la rassegna Samarkanda, dedicata alla collezione d'autore. E gli spettacoli autoprodotti. Due ogni anno. Uno, poetisti anonimi, propone la rivisitazione di un tema in chiave storico-letteraria. L'altro, note di poesia, parte dai testi poetici presentati nel corso dei caffè letterari e li integra in una sceneggiatura teatrale accompagnata da interventi musicali di danza e di recitazione che ne fanno uno spettacolo a tutto tondo multidisciplinare. Infine il quinto villaggio, quello del territorio inteso come valore e senso di appartenenza culturale di una comunità. E segnaliamo la Festa Turin, il premio Piemonte Letterature, il premio Piemonte che scrive le sue tradizioni e il premio Chiaravalle per la fotografia con la mostra Il mio quartiere, il mio paese e la mia città. Tra le iniziative nuove, Poetica del Borgo, che è una passeggiata nel Borgo San Paolo e Cenisia tra storia e fotografia. Ok, seguiteci! Intercultura è dal 1955 l'associazione senza scopo di lucro che rappresenta in Italia l'American Field Service, la quale opera in oltre 65 paesi nel mondo. Intercultura, presente sul territorio italiano con più di 4.000 volontari riuniti in oltre 150 centri locali, di cui 13 nel solo Piemonte, permette a più di 3.000 studenti di partecipare a un programma di studio all'estero o vengono ospitati qua in Italia. Tra questi studenti abbiamo avuto anche i due astronauti italiani, Samantha Cristoforetti e Luca Parmitano. L'esperienza di studio all'estero, rivolta ai ragazzi della scuola superiore, è altamente formativa, come dimostrano anche diversi studi commissionati dalla Fondazione Intercultura. Immediatamente dopo l'esperienza, i ragazzi, affrontando l'università, l'affrontano con maggiori profitti, continuando la loro esperienza di formazione all'estero. Questo, in ambito professionale, si traduce in una maggiore adattabilità nel cercare, nel trovare o nel cambiare un lavoro. Infatti, i dati della disoccupazione nella fascia di età tra i 20 e i 54 anni, tra coloro che hanno fatto un'esperienza all'estero, è appena del 9% a fronte di un dato italiano del 14%. Infine, nella vita privata, questi ragazzi, poi nella vita adulta, si sentono maggiormente felici. Bene il 90% di essi si dichiara felice a fronte di un dato italiano del 47%. Ovviamente questa esperienza fa sì che aumentino il senso di comunità e soprattutto il trattamento delle persone diverse in maniera equa, senza respingere il diverso a priori. Chi ha vissuto in minoranza in un paese straniero come studente impara a sospendere il giudizio e soprattutto a relativizzare il concetto di normalità, come ha fatto la nostra Cecilia. Quando decido di candidarmi per un programma scolastico con Intercultura, non mi sarei mai aspettata che un'esperienza del genere potesse cambiarmi la vita in questo modo. Ovviamente avevo già sentito parlare del programma grazie a volontari e familiari che avevano vissuto la stessa esperienza, ma nel momento in cui sono partita ero io la protagonista delle storie che avevo letto e riletto sia sul sito web che un po' ovunque nei fascicoli forniti dall'associazione. Sono stata colta da un turbinino di emozioni davvero intenso che mi ha accompagnata fin dal primo momento in cui ho messo piede sulla mia amata Panama, al momento in cui ho conosciuto le mie famiglie, al primo giorno di scuola con i miei nuovi compagni e le mille avventure vissute con i miei amici da tutto il mondo. Una volta tornata in Italia mi sentivo quasi a disagio perché non sapevo bene come interagire con le persone che mi circondavano. La mia cultura era completamente diversa ormai, ero un ibrido tra la mia personalità italiana e quella di nuova cittadina del mondo. I miei genitori però mi hanno sempre supportata e hanno capito quanto fosse importante per me dare a qualche altro ragazzo straniero la possibilità di vivere un'esperienza come la mia. Così a gennaio dell'anno scorso è arrivata alla stazione di Porta Nuova di Torino Arianna, una ragazza dal Costa Rica che ha vissuto con noi sei mesi. Ed è stata l'esperienza che in assoluto ha stravolto la mia persona e tutti coloro che la circondavano. È stato bellissimo vedere come mio papà così freddo e distaccato si è riuscito a creare un regame così profondo con mia sorella che ancora chiede le sue notizie ogni due giorni. Affrontare un'esperienza all'estero dunque aiuta nella vita ed evita il rigurgitare di un doloroso passato. Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il nostro sito intercultura.it Il Centro per l'UNESCO di Torino è un'associazione aperta alla libera partecipazione di cittadini torinesi di qualunque età e di qualunque centro sociale. Lavora in rete con gli altri 13 club UNESCO del Piemonte che sono andati via via fondandosi e con la Federazione Italiana dei Centri del Club UNESCO di cui fa parte. I club UNESCO sono diffusi su tutto il territorio nazionale la Federazione Italiana conta ben 144 club diffusi in tutta Italia e la sede del Centro UNESCO è dal 2014 anche la sede della Federazione Nazionale. Quando inizia questa avventura? Inizia nel 1983 quando l'UNESCO dove io mi trovavo per presentare il metodo educativo che andavo utilizzando all'interno di una scuola di Mirafiori Nord mi chiese di fare qualche cosa perché a Torino ci fosse una realtà che parlassi di UNESCO. Mi informai, mi dissero che esistevano i club UNESCO già allora 3.500 sparsi in tutto il mondo tornai a Torino e fondai con un gruppo di amici un club per UNESCO di Torino che l'UNESCO stessa ribattezzò dopo pochi anni centro per l'UNESCO. Perché? Perché bisognava portare a Torino un'altra realtà internazionale la nostra città è sempre stata una città a vocazione internazionale e aveva già un suo campus, il campus delle Nazioni Unite dove era in quel momento ricoverato, o meglio, dove aveva sede l'Organizzazione Internazionale del Lavoro e noi trovammo lì come centro per UNESCO di Torino una sede che il sindaco di allora ci indicò come la nostra sede più congeniale. Da allora abbiamo continuato a lavorare abbiamo fondato un centro di documentazione che attualmente conta 5.200 volumi la cui consultazione è aperta ovviamente a un pubblico non solamente torinese ma anche nazionale anche perché questo è diventato un centro di documentazione unico in tutta Italia è una biblioteca depositaria dell'UNESCO dove si trovano volumi che l'UNESCO ha fatto negli anni e tutto, per esempio, tutta la raccolta dei Corrieri UNESCO. Abbiamo anche all'interno di questo centro di documentazione un archivio di tesi di laurea su Torino e il Piemonte che oggi conta 23.000 titoli consultabile anche online sul nostro sito www.centrunesco.to.it è un archivio che dimostra quanta passione i nostri studenti e i nostri docenti universitari abbiano nei confronti del patrimonio piemontese patrimonio che è particolarmente interessante perché all'interno della lista del patrimonio mondiale UNESCO il Piemonte conta la bellezza di 5 siti di cui 4 sono seriali cioè contengono più monumenti partiamo dalle residenze sabaude che furono accreditate nel 1997 e contano circa 20 monumenti per arrivare al giugno di quest'anno quando è stata riconosciuta la città di Ivrea come unica città industriale presente all'interno della lista del patrimonio mondiale questo significa che la sensibilità dei nostri conterranei è una sensibilità che si è andata crescendo nei confronti di un'organizzazione internazionale che aveva una certa dose di mistero pian piano si è andata comprendendo il suo valore si è andato comprendendo la necessità di sensibilizzarsi ai valori della pace e dei diritti umani che l'UNESCO porta con sé a partire dal novembre del 1945 pertanto i nostri soci sono soci pronti a riceverne altri che insieme a loro sensibilizzino ulteriormente studenti, giovani e cittadini comuni per realizzare la pace universale all'interno di un mondo che sia effettivamente dialogante e che abbia la possibilità di far crescere i valori e non i disvalori Sono la Presidente dell'Associazione Amico Libro Ausilia Passalenti Ferraris e oggi vi voglio presentare brevemente la nostra associazione la nostra associazione è un'associazione culturale nasce nel 2006 si interessa di giovani, adulti, anziani e attraverso la rete ha una finalità culturale di trasmissione attraverso il libro i momenti di condivisione di dialogo, di comprensione e soprattutto di memoria perché senza il libro non potrebbe esserci cultura Sottolineo che tutto ciò che avviene nell'associazione, i progetti, le attività sono tutte fatte in modo gratuito senza appunto fini di lucro la nostra sede è in via Giolitti 21 L'associazione si interessa in modo particolare dei giovani perché riteniamo che i bambini e i giovani debbano avere l'opportunità di scoprire non soltanto lo studio e la scuola ma anche vivere il territorio vedere attorno loro la bellezza del leggere, dell'arte, della musica quindi vengono fatti dei festival creativi delle attività di lettura con lo scrittore per gli anziani e gli adulti si fa un turisti per un giorno letture con scrittori e viaggi per la cura delle persone per prevenire e diffondere il benessere la socialità e la solidarietà Molte sono le attività che non posso naturalmente presentare tutte oggi ma quella che ci tengo in modo particolare presentare è l'alternanza scuola lavoro perché è un percorso pedagogico didattico di grande valore per i giovani che soddissa i loro bisogni soprattutto quello del scegliere il loro futuro quindi l'università oppure il mondo del lavoro quindi passo la parola a Carola Aghemo Buongiorno a tutti l'esperienza di Amico Libro è stata sicuramente per me come per i miei compagni un'esperienza molto illuminante per la scelta del nostro futuro soprattutto per un liceo che diciamo si occupava prevalentemente dell'ambito umanistico e della letteratura ed è stata infatti un'esperienza che mi ha aiutato nonostante non sia stata poi effettivamente oggetto di maturità almeno per quanto riguarda la maturità del 2018 mi ha aiutato sicuramente per la scelta della mia università e di conseguenza del percorso del mio futuro mi ha spinto infatti attraverso le testimonianze di diversi scrittori che abbiamo conosciuto a inseguire la mia passione per la scrittura e per la letteratura e quindi scegliere il percorso di lettere moderna all'Università di Torino e per questo è un'esperienza che nonostante appunto non sia stata poi oggetto dell'esame di Stato sicuramente ripeterei se dovessi tornare indietro ed è stata profondamente illuminante Passo adesso la parola all'insegnante del liceo Passoni la signora Lanza professoressa Lanza che come tutor ci darà una testimonianza io sono Elena Lanza lavoro come insegnante al liceo Passoni la fortuna di aver incontrato la signora Passalenti che come noi vuole valorizzare i giovani ci ha accompagnato in diverse esperienze di alternanza sia di gruppo sia singole e ci ha aiutato anche a convincere dei ragazzi che avevano un'incertezza sul futuro a portarle all'università quindi riteniamo che l'esperienza di alternanza scuola e lavoro sia fondamentale vorremmo un tavolo di confronto con tutte le istituzioni piccole e medie aziende insegnanti il MIUR per poter rendere sempre più fondamentale e importante questo progetto i programmi di Rai3 riprendono ora a diffusione nazionale buona visione che si è un'occhio che si è un'occhio che si è un'occhio per avere un'occhio che si è un'occhio di rai3 riprendono l'università